Non solo roghi e incendi di rifiuti e materiale altamente inquinante, nei compiti della Commissione Speciale Terra dei Fuochi del Consiglio regionale della Campania vi è anche quello di vegliare circa il ciclo delle acque, spesso oggetto di sversamenti illegali di rifiuti o a intoppi che ne impediscono la regolare purificazione, come nel caso delle acque reflue, con il risultato di inquinare mare e terra. In questi giorni estivi la Commissione è impegnata su più fronti, tra i quali quello del litorale Domizio, luogo purtroppo soggetto a un grave inquinamento e che dovrebbe diventare nuovamente uno dei punti maggiormente apprezzati della Campania, come dotazione naturale e attività turistica. Tra le questioni affrontate dalla Commissione Speciale, lo stato di grave inquinamento dei canali Lapigna e Trentapalmi, tra i comuni di sessa Aurunca e Cellole. Ascoltiamo il Presidente della Commissione, Gian Piero Zinzi. C'è un'emergenza in atto e noi dobbiamo affrontarla. La nostra Commissione accende i riflettori affinché la Giunta regionale, ma in questo caso anche i comuni e il consorzio di bonifica che versa in condizioni drammatiche perché i lavoratori dipendenti non vengono pagati ormai da mesi e su questo il nostro impegno deve essere chiaro. Noi oggi siamo qui ad affrontare il problema in maniera seria e soprattutto a chiedere soluzioni al Governo regionale.